e quando ha scritto questo testo lui si chiama Michael Young e quando poi prima di morire ha lasciato l'ultima intervista in cui diceva io mi pento ad aver scritto questo libro perché perché non avrei mai voluto introdurre questo termine e infatti il suo è un testo un po' distopico in cui parla della meritocrazia come l'antitesi della democrazia racconta questi questi esempi di merito come uomini molto come uomini e donne come individui che si sentono intitolati a qualche cosa anche se altri non ce l'hanno e quindi queste parole luminose che lei usa quindi ricchezza quindi crescita merito hanno molte ombre e su queste vorrei chiederle di dirci qualche cosa no lei è posto centrato un punto nodale a un po' di discorso perché giustamente quando si dice la ricchezza e l'efficienza e lo sviluppo eccetera ma in fondo guardi per dire questo per cominciare citando un altro libro che forse lei conosce che a me per me è stato un momento di svolta anche come dire filosofico ed era i limiti dello sviluppo del club di roma cioè quel rapporto che è uscito per questo faccio due parole perché i giovani non sanno che cos'è il club di roma è semplicemente negli anni fine anni sessanta inizio settanta si è creato per l'iniziativa di un personaggio che nessuno oggi conosce che si chiamava Aurelio Peccei che era un manager è stato un manager della Fiat dell'Olivetti così questi manager umanisti che si era posto il problema di dire ma dove sta andando a questo sviluppo questa attrice delimitata e continuiamo a consumare e a produrre e arricchirci ma poi che quali ombre poi si profilano all'orizzonte ne nacque un libro un rapporto realizzato l'MIT il Massachusetts Institute of Technology da un gruppo di ricercatori di cui Jay Forrest era il leader e che negli anni inizio settanta ebbe un boom incredibile qualcuno calcolò che era più letto della Bibbia per dire la diffusione che ebbe meno che in Italia questo si chiamava club di roma semplicemente perché questo Peccei aveva organizzato una riunione di fondazione a Roma ma con personalità filosofi manager anche alcuni uomini politici ma non nel senso partitico e soprattutto poi scienziati e ricercatori che si potevano questo problema dove stiamo andando cioè questa crescita illimitata e ne nacque questo libro che ebbe una grande diffusione per quanto mi riguarda mi segnò moltissimo perché in quegli anni c'era la crescita illimitata e questo studio cominciò a spiegare che non era così perché le risorse erano limitate perché l'energia era limitata perché l'ambiente poteva avere tutta una serie di conseguenze negative sui suoli sulle acque sul riscaldamento globale parliamo di 40 anni fa e più questo libro ebbe una grande diffusione in Olanda fu una specie di così di icona in Giappone lo stesso in Italia io chiesi a Peccei di cui era diventato poi molto amico ma in Italia c'è stata qualche reazione di Polidio zero una sola persona mi ha telefonato per dire com'è questa cosa qui non vi dirò chi è ma forse lo potete intuire e comunque ricordo che fu organizzati varie grandi conferenze internazionali al Club di Roma una Algeri con paesi comunisti del terzo mondo come si diceva allora e poi i paesi capitalisti per dire ma non riusciamo a trovare qualche cosa insieme che cerchi di contemperare la crescita con la giustizia lo sviluppo delle aree che sono sviluppate con il ruolo anche delle multinazionali e un premio Nobel olandese aveva fatto un progetto per cercare di come dire anziché affrontarsi cercare un interesse comune e io andai a questa conferenza quindi poi lo seguì anche in un altro grande meeting a Salisburgo dove c'erano dieci anzi undici tra capi di stato e capi di governo quindi era una cosa non da filosofi ma di grande proiezione politica e gli chiesi poi a Peccei dopo la conferenza dico ma come hanno reagito queste persone dice guarda uno ti dirò chi era di un paese importante è venuto dopo a felicitarmi per tutto mi ha detto guarda io condivido quello che lei dice ma se lo applicassi nel mio paese sarai fuori dalla politica in tre mesi e qui ritorniamo un po' al fatto della difficoltà per il politico poi per applicare le idee ma per tornare a quello che lei diceva certo lì tra l'altro c'è stato un equivoco anche nella traduzione del libro in Italia perché il titolo inglese era limit to growth limiti della crescita che qui è stato tradotto come limiti dello sviluppo che è tutt'altra cosa la crescita e lo sviluppo sono delle cose addirittura spesso incontratto la crescita vuol dire produrre, fare, consumare sporcare lo sviluppo vuol dire cercare di capire come tutte queste cose vanno insieme e utilizzarle come io cerco di significare nel mio libro nel modo migliore per la promozione umana per la diffusione della conoscenza della capacità di gestire un mondo complesso per dare le armi o i mezzi ai politici di fare anche giustizia sociale che poi è la parte filosofica politica ma se non c'è questa cosa sotto ora se si eccede come è successo e come denunciava questo rapporto che ha cambiato comunque la filosofia poi è stato criticato per dire sì ma le previsioni e le proiezioni che faceva non erano corrette perché poi si sono risultati sì ma c'era una premessa che poi tutti dimenticano cioè diciamo questo nella situazione di oggi ma è evidente che dobbiamo cambiarla l'esempio era quella dell'iceberg e del Titanic c'è l'iceberg noi dobbiamo evitare l'iceberg non dire che non c'è l'iceberg dobbiamo correggere la rotta e se correggiamo la rotta non ci sarà più l'iceberg ed è quello che poi è avvenuto in tanti modi che adesso qui è inutile ricordare però ecco il problema che lei pone è fondamentale perché questa crescita deve poi coniugarsi con lo sviluppo evitare queste ombre e queste anche tragedie che si possano avere in particolare dal punto di vista ambientale perché noi continuiamo a ricevere questi messaggi inquietanti dal famoso panel per il controllo globale del clima che ci dicono sempre le stesse cose però noi ci comportiamo come non esistesse c'è questa dicotomia totale per cui non rispettiamo neanche gli accordi di Chiotto dovremmo essere non so se a meno 6, meno 7 siamo a più 10 queste cose si vengono rimosse perché lì torniamo al cervello che reagisce di fronte alle cose emotive che ha di fronte a sé come sta facendo la Grecia oggi e come facendo in parte anche noi però non vediamo il futuro e questo è uno dei grandi problemi perché non sono i politici operano sul breve termine e non sul medio e tantomeno sul lungo termine perché la loro pressione è sul breve termine e invece la capacità razionale è come la partita a scacchi io gioco male a scacchi ma tanto mi diverto se voi giocate giocate sul medio e lungo termine non giocate sul breve termine perché se volete ottenere un vantaggio mangiando subito un alfiere poi la pagherete cara e quindi bisogna capire anche un'altra cosa per questo io spesso dico che gli scacchi dovrebbero essere diffusi sempre nella scuola elementare ma anche altrove apro una piccola parentesi per dire pensi che io negli anni 80 e forse un po' prima negli anni 80 ero andato in Venezuela a osservare da vicino una cosa una fantascienza in quel paese era nato il ministero dell'intelligenza pensi qui in Italia le pernacchie che sarebbe il ministro sarebbe stato travolto dall'ilarità popolare lì l'ha fatto sul serio hanno preso due molti psicologi un americano non inglese che gli hanno fatto un progetto di diffusione della conoscenza nella popolazione cioè questo presidente ha detto noi abbiamo potenzialità tra l'altro abbiamo il petrolio ma abbiamo un paese che è molto arretrato come possiamo accelerare la capacità poi di essere un paese moderno e hanno fatto una cosa straordinaria e io sono andato poi anche ne ho scritto poi un libro cominciando dalla maternità da zero anni e avevo scritto un libro da zero a tre anni e quindi conoscevo bene quel problema già nelle scuole negli ospedali stimolavano i bambini avevano un sistema radio per cui 12 volte al giorno trasmettevano bevi programmi per le madri mandavano delle monitrici di quartiere a casa questo per i bambini per la scuola c'era un sistema di imparare a pensare che guidava verso soluzioni più razionali nell'esercito e anche negli scacchi che erano obbligatori nella scuola poi il presidente perse le elezioni e la cosa finì lì comunque diciamo che anche Skinner che era quel famoso psicologo del comportamento di Arva la considera il più straordinario esperimento sociale di diciamo tentativo di acculturamento di massa mai realizzato ma dico questo perché in realtà le due cose devono andare insieme cioè lo sviluppo va inteso la crescita va intesa dentro il pacchetto dello sviluppo ecco allora certo che ci sono delle ombre le abbiamo appena accennato e c'è anche quest'idea che è un po' romantica che la tecnologia la scienza gli ingegneri tutta questa roba lì beh siano poi persone che hanno orizzonte basso culturale che invece poi la filosofia il pensiero l'arte e queste sono le persone che veramente si pongono le grandi domande magari trovano delle risposte gli altri sono dei tecnici non è mica così che si avvicina alla scienza in modo non casuale e non episodico sa benissimo che la scienza è filosofia perché cerca di rispondere tra l'altro proprio alle domande dei filosofi siamo pieni di esempi quando si dice ma da dove veniamo chi eravamo pensate che oggi le domande antiche dei filosofi da dove veniamo come è nato l'universo l'astrofisica come è apparsa la vita biochimica come ha preso origine l'uomo paleontologia umana che cos'è un organismo vivente biologia cos'è il comportamento psicobiologia cosa c'è dentro la materia fisica delle particelle che cos'è il tempo la relatività qual è il rapporto tra le perché siamo tutti diversi la genetica come nasce la diversità evoluzione cioè sono delle chiavi per capire il mondo ma per capire anche se stessi perché la psicobiologia l'etologia umana ma tante alla psicologia fanno sì che noi capiamo molto bene oggi il comportamento e anche come si possono manipolare le masse come è stato fatto spesso nella storia anche recente quindi in realtà la scienza ha questa valenza culturale alta di fatti c'è la filosofia della scienza che viene ignorata completamente a cominciare dalla scuola dove non esiste una picca parentesi perché proprio domani nel mio liceo a Torino liceo d'Azzeglio c'è una picca cerimonia alla quale mi avevano invitato per donare un libro alla biblioteca e siccome alcuni dei personaggi conosciuti che erano usciti da questo liceo tra l'altro tipo Bobbio Leone Ginsburg Giancarlo Paglietta e tanti altri e hanno allora ho donato questo libro di filosofia della scienza che è un libro che tu certamente conosci di Jacques Monod Il caso e la necessità dove c'è proprio questo diciamo queste due componenti dell'ambiente dell'eredità che fanno sì che poi messi insieme in modi più diversi regolano il comportamento umano ecco però per dire che tutto questo poi finisce per dare all'individuo una capacità di leggere il suo tempo diversa e di leggere non solo in chiave filosofica diciamo così ma anche in chiave poi pratica per riuscire a gestire i problemi quotidiani ecco credo che c'è un'altra cosa che noi non dobbiamo identificare accennavo prima a queste mura dentro le quali eravamo in passato ma non solo dal punto di vista della produzione del consumo delle merci io qui nel libro faccio un piccolo esempio che lei ha letto di questa ragazza che studiava a Zurigo che è la figlia anzi è la nipote di un mio amico che la cui figlia è andata a Zurigo lì è nata dalla sua figlia insomma questa sua nipote praticamente lei di da quando è piccola va a scuola a Zurigo quindi in una svizzera tedesca molto precisa esigente scolastici ed è la prima della classe e per premio l'hanno mandata tre mesi a Singapore nell'ultimo anno gli dice ho fatto tre anni tre mesi è tornata frastornata dicendo ma questi studiano tutti come matti cioè noi siamo di fronte a questo tipo di competizione del cervello non soltanto delle macchine mi diceva un altro amico che ha il suo figlio ha una scuola americana una scuola inglese a Roma dove c'è una cinese che studia e questa ragazza si alza alle sei del mattino a studiare ecco noi dobbiamo capire che bisogna cambiare marcia anche lì faccio un esempio io quando negli anni trenta ero ragazzino come tutti i ragazzini giocavo al pallone e andavamo il sabato con la squadra del liceo a giocare di allenarsi e non si parlava neanche si andava lì e si giocava ma oggi uno per giocare al calcio non è che vai a partita allora che c'è oggi c'è a Lazio andiamo a giocare con no questi tutti i giorni continuamente si allenano quindi forse i discorsi di un rallentamento di maggiore attenzione anche al ritmo dello sviluppo era più realizzabile in una società in cui lo sviluppo era molto lento e invece in questo modo volevo citare però un'ultima cosa che riguarda un po' questa diversità che esiste io faccio un capitolo sulla questa dicotomia che c'è oggi tra le due culture vecchia polemica la cultura scientifica e quella umanistica è la storiella di due filosofi che vanno in cerca della verità allora uno va in giro per fare delle domande e ottenere delle risposte in base alle quali costruire il suo pensiero verificando comparando l'altro filosofo invece ha già le risposte e va in cerca di domande e questo è un po' si muove la filosofia del passato e anche è quella di è la scienza sono po' la scienza non ha delle risposte lei costruisce perché piano piano costruisce un corpo di conoscenza però che è solido che diventa intersoggettivo mentre invece qualunque filosofia che non sia e che sia frutto di una creazione personale è soggettiva non è condivisibile ecco questo forse è anche qualcosa che nella nostra cultura è importante e che vale anche per la politica perché la politica non deve dimostrare quello che propone dà delle speranze dà delle linee poi ci sono errori del passato che si continuano a ripetere dicendo no ma adesso andrà meglio quindi una maggiore razionalità anche in politica è quello che un po' si sta facendo o si sta cercando di fare è di rendere conto di quello che tu hai fatto non è che ogni volta ti rivoto perché questo manca molto nel nostro paese anche perché c'è un po' questa distrazione della cultura che vola alto ma in realtà vola troppo alto e quindi finisce per essere fuori dalla realtà vabbè sono andato un po' retta libera abbiamo abbiamo integrato abbiamo rubato spazio però però molti degli esempi che ha fatto in realtà sono un richiamo all'importanza della politica perché le cose cambiano e si fanno diversamente prendo come esempio il ragionamento fatto sul rapporto tra crescita e sviluppo un sviluppo armonico che tiene conto degli impatti sull'ambiente sulle risorse naturali sull'equità sociale e così via è uno sviluppo che ha bisogno di politica altrimenti non va da solo in quella direzione questo l'abbiamo imparato l'esempio fatto sulle emissioni di gas effetto serra italiana è interessante perché se le guarda come dipendono dai governi che sono succeduti ed è interessante come questo sia una funzione del tipo di governo che abbiamo avuto in realtà le emissioni sono un po' meno di quelle che ha detto prima perché la crisi economica ci ha dato una grossa mano e le ha abbassate però paradossalmente nell'ultimo anno del governo Berlusconi nonostante la crescita ha cresciuto del 2,5% più di qualsiasi altro paese al mondo e conta perché è un governo che non partecipa ai negoziati internazionali un governo che toglie e mette i sussidi sulle rinnovabili prima li toglie poi li rimette poi li rimette ancora poi li ritoglie un governo che dà segnali così incerti non ha una direzione è ovvio che ha un impatto forte poi sulle scelte parliamo di ricerca un governo che non investe in ricerca e forse anche quello è il male minore perché le risorse che l'Italia destina alla ricerca scientifica le risorse pubbliche non sono troppo più basse di quegli altri sono più basse ma non troppo ma sono quelle private che mancano e perché mancano perché è un governo che non ha mai spinto le imprese in quella direzione non ha mai dato gli incentivi giusti qualche segnale ce l'abbiamo adesso col credito d'imposta che aiuterà le imprese a collaborare con l'università ma è un fatto recente della fine del 2011 perché non si si è mossi prima in questa direzione abbiamo invece continuato a distribuire sussidie ad imprese senza collegarli a questa capacità di crescita e innovazione perché i governi questo non l'hanno capito la politica mi sembra importante e volevo chiedere a Gabriele Zanetto il nostro docente di geografia economica ma anche prestato per tanti anni alla politica e poi tornato in università quanto conta alla fine che è poi la domanda quanto conta la politica sentire e leggere Piero Angela è sempre un po' disintossicante si parla con dati di fatto si mettono le cose una dietro l'altra non si cerca di affascinare il pubblico le risposte che lui dà tradotte solo un poco mi pare che siano essenzialmente due la prima è che il campo di gioco della politica che io intendo come la tecnica per prendere decisioni collettive concertata discussa con delle istituzioni delle mediazioni il campo di gioco della politica è diventato più piccolo di quanto la nostra cultura tradizionale non indichi e lui lo dice con il politico turco che promette vi farò diventare tutti biondi come gli svedesi la politica di uno stato non può più decidere moltissimo di che cosa fare delle risorse della popolazione del reddito perché molte cose sono decise all'esterno dai tempi della presidenza Mitterrand in Francia il presidente che nel giro di sei mesi ha dovuto cambiare tutta la politica finanziaria perché i capitali stavano abbandonando il suo paese gli stati giocano di rimessa allora la politica si riduce a fare dell'altro e qui l'altra risposta che dà Piero Angela è cosa è successo in Italia che abbiamo investito poco in tecnologia uno dei motivi per cui la produttività del lavoro in Italia è bassa non è certo perché abbiamo lavoratori fanulloni ma perché scavare le buche con le unghie costa molte più ore di lavoro che scavarle con il bulldozer e noi abbiamo investito poco nel bulldozer e nel frattempo ci siamo indebitati ma cosa abbiamo fatto delle nostre risorse e qui allora abbiamo il gioco della politica un po' depravato Piero Angela ha anche il coraggio di dire delle cose che sono tabù nella cultura italiana il mezzogiorno d'Italia ha un pil pro capite bisogna rifare i conti a parità di potere d'acquisto che è presa poco quello del Portogallo le grandi regioni del nord hanno presa poco quello dell'Olanda come si fa a dire una cosa e a fare una politica unica con due audience con due strutture economiche sociali etiche così diverse e bastato che Monti dicesse ma che noi hanno lo stesso lavoro per tutta la vita io sono perfettamente d'accordo io non ho mai cambiato d'attore di lavoro ma ho fatto cose molto diverse anno per anno come ricordava Carlo il nostro rettore però il modo che noi abbiamo di investire in tecnologia è quello che condiziona anche il nostro il nostro paese che è così vario per cui Monti si sente dire sì ogni posto di lavoro può essere il trampolino per un altro migliore oppure averlo un posto di lavoro fisso e sicuro che me la sfango per tutta la vita perché sono due pezzi di società molto diverse quindi ci siamo indebitati non abbiamo investito in tecnologia e che cosa abbiamo fatto abbiamo pagato chi non produceva altrettanto abbiamo dato pensioni del tutto sproporzionate ai contributi versati a intere categorie i col diretti gli artigiani i commercianti che non avevano dato altrettanto abbiamo dovuto aspettare che gli eredi di Gianni Aglielli litigassero per capire dove erano finiti i soldi del contributo italiano versati a vario titolo alla Fiat investiti all'estero in posti strani abbiamo pagato pensioni di invalidità false abbiamo rincorso il consenso questo mi pare un punto chiave Angela la politica stretta dai mercati internazionali si riduce ad una rincorsa del consenso per cui a brevissimo facciamo delle cose del tutto sciocche e a una remunerazione per ottenerlo allora qui io trovo un punto chiave nelle dinamiche italiane il governo Monti sta facendo delle cose che tutti giudicano necessarie intelligenti e anche francamente un po' scontate nel senso che si sapeva che questo era da fare lo sapevamo da tanto tempo e se qualcuno non lo avessi saputo a Monti poteva telefonare come professore e dire senti professore dammi una buona dritta perché qua mi pare che le cose vadano maluccio non era difficile ma nessuno si sognava di farlo allora che cosa ha consentito a degli eletti per definizione non tecnicamente competenti di fare questo disastro protratto per alcuni lustri nonostante delle inversioni di tendenza tentate lo ha consentito secondo me il fatto che questa politica degenerata si è sbarazzata del controllo di una efficiente competente e orgogliosa burocrazia se l'è infeudata l'ha sostituita con dei portaborsi in alcuni casi però è evidente che queste cose le cose che fa il governo Monti che fa una gius lavorista come ministro del lavoro sono cose che poteva essere affidate tutte alla burocrazia che desse un muro un argine alle scelte degli eletti che invece hanno usato questa rincorsa al consenso con un atteggiamento che a volte è proprio sembrato di rapina per confusione dei beni pubblici a favore di beni privati perché un sacco di soldi sono andati in giro investiti all'estero in modi fraudolenti come sappiamo hanno pagato il consenso ma a volte hanno costituito dei patrimoni privati l'Italia ha tradizione di questo Galeazzo Ciano era figlio di un ricco finanziere questo gli ha comportato una parentela col capo del governo e questa parentela gli ha comportato di fare il ministro e di governare Piazza Affari la Borsa di Milano questa confusione tra pubblico e privato durante il fascismo era la norma e noi l'abbiamo rispolverata alla grande non si capisce più se uno sia un imprenditore stia facendo il saccheggio porti via le sedie di Palazzo Cicci allora questo ha bisogno di un ritorno degli intellettuali a dire chiaro e forte qual è il limite del dicibile al di là del quale ci sono le panzane dobbiamo imporre uno stile dobbiamo imporre dei confini alla discussione ma credo che senza norme serie e noi ne abbiamo che sembrano fatte apposta perché si possa rubare il denaro pubblico e senza burocrazia competente indipendente ed orgogliosa sarà davvero un po' complicato uscirne se poi noi diamo l'autonomia locale a delle situazioni sociali degenerate francamente non è che andiamo proprio nella strada giusta non le pare Ange questi sono spunti molto utili e intelligenti e ho notato alcune cose mentre lei parlava forse si potrebbe cominciare dal fatto del trasferimento tecnologico della ricerca verso le industrie la ragione come era stata citata prima è il poco investimento che i privati fanno nella ricerca perché nelle tabelle che anche risportate nel libro si vede che appunto la ricerca italiana l'investimento pubblico nella ricerca non è molto inferiore è appena di poco inferiore quello degli altri la vera carenza è nell'investimento dei privati allora perché succede questo ci sono tanti economisti che si sono cimentati a spiegare questo meccanismo ma sostanzialmente si individuano tre ragioni la prima è che le nostre industrie sono molto piccole mi sembra che ho dato su 24 milioni di aziende che ci sono in Europa di piccole aziende 6 milioni sono in Italia cioè c'è una percentuale altissima di piccole aziende che non hanno bisogno e non hanno i mezzi per fare della propria ricerca o del trasferimento tecnologico e il secondo punto è proprio perché sono aziende spesso nate da piccole aziende artigiane che fanno dei prodotti che non hanno bisogno delle nanotecnologie delle biotecnologie tra queste ci sono tra l'altro tutte quelle aziende che per fortuna vendono bene il retto che sono non solo lo style il design della moda ma tutto l'alimentare che rappresenta un mondo molto efficiente e dove non c'è bisogno della NASA per fare bene il formaggio ecco quindi questa è una ragione ma la terza ragione che forse è quella che più è importante è che in Italia non sono nate delle grandi aziende competitive tra loro come per esempio in Giappone in Giappone ci sono delle enormi aziende conosciamo bene il campo dell'automobile ma quello dell'elettronica quello delle macchine fotografiche dei computer dove queste aziende come dire hanno avuto una selezione naturale genetica per così dire dovuta alla forte competizione interna che avevano e che quindi si sono presentate poi al momento opportuno sui mercati già estremamente aggressive e attrezzate per essere competitive ma vorrei riprendere il suo stimolo sulla pubblica amministrazione perché qui c'è forse uno di quegli acceleratori di cui io cerco di parlare nel libro che può essere se si vuole può essere applicato in tempi anche abbastanza fisiologici diciamo non richiedono generazioni ed è questo in Francia fino alla fine della guerra dell'ultima guerra c'era un metodo di arruolamento nelle pubbliche amministrazioni che era quello che esiste oggi in Italia cioè che ogni ministero fa i suoi concorsi con punteggi che poi sono tra l'altro lì lei accidava il problema nord-sud di cui è vero si parla molto poco in questi termini perché quando noi abbiamo delle medie nazionali abbiamo la media tra il portogallo del sud e l'Olanda del nord e quindi abbiamo due paesi che coesistono tra l'altro una delle cose che è venuta faccia fuori con l'invalsi studi di valore sia dei titoli di studio di diplomi delle lauree per cui succede che c'è maggiore generosità in certe regioni e per quando ci si presenta un concorso il punteggio della laurea sfalsa e poi come diceva c'è questa infiltrazione di tutta la raccomandazione il clientelismo la sudditanza l'infiltrazione di vario tipo per cui nella pubblica amministrazione dove ci sono persone eccellenti ma ci sono infiltrazioni un po' di ogni tipo allora la Francia aveva un problema analogo che ha risolto nel dopoguerra tra l'altro su iniziativa credo proprio del generale de Gaulle ed è che è stata creata la la ENA si chiamano in francese come si chiamano Ecole nationale d'amministrazione la scuola nazionale di amministrazione che è un centro di grande eccellenza per la formazione dei funzionari pubblici allora cosa succede? che da questa scuola escono attraverso una selezione durissima perché è una scuola di grande eccellenza i migliori quelli che alla fine hanno i punteggi più alti sono loro che vanno a dirigere non solo la pubblica amministrazione ma tutte le aziende di stato o di partecipazione statale le aziende industriali quelli automobili di tutto quello in cui costruzione di aerei sono delle persone che escono non da una selezione interna fatta dai ministeri o delle varie amministrazioni ma è come dire arrivano lì dalla scuola direttamente e hanno diritto di scegliere a seconda dei ponteggi i posti più importanti ecco che improvvisamente succede che c'è una testa molto forte che ha tra l'altro dei valori etici molto ben radicati un desiderio di fare bene una fierezza un orgoglio di appartenere a questa scuola faccio un esempio che entra anche nella politica i due contendenti ultimi anche socialisti Hollande che è quello è la sigolenne Royal tutti i due escono da Léna come Chirac come Giscard d'Estaing oppure dall'Ecole Polytechnique che è un altro centro di eccellenza io ricordo quando ero a Parigi ho stato nove anni a fare il corrispondente per la televisione l'Ecole Polytechnique era l'anno di uscita la graduatoria poi l'Ecole Polytechnique forniscono la testa non soltanto pensante ma anche quella diciamo che ha una fierezza allora cosa succede che se tu hai all'inizio questa piccola piramide fortissima quello che c'è sotto è condizionato fortemente da questa da questa capacità poi di gestire di promuovere e di mettere le persone giuste al posto giusto guardi io ricordo quando ero a Bruxelles nelle discussioni che si facevano allora parlo da fine degli anni sessanta a metà degli anni sessanta mi dicevano i funzionari italiani della comunità qui vengono dai ministeri delle persone impreparate a parte il fatto che non sanno nessuna lingua ma non conoscono i dossier non hanno la capacità anche di gestione diplomatica di negoziare si fanno mettere nel sacco ogni giorno dai francesi perché arrivano qui i più bravi che hanno questa capacità manageriale con grande competenza persone molto selezionate ecco dove si dice la pubblica l'administrazione non funziona ma non funziona perché arrivano così in quale modo arrivano allora c'è la qualità che a questo momento è determinante e questa per esempio è una cosa che si può fare ma questo consentirebbe un cambiamento per cui gli eletti non dovrebbero più rincorrere il consenso minuto per minuto anche con azioni illogiche e quindi i soldi per ottenere il consenso attraverso la pubblicità televisiva non dovrebbero più essere rapinati al circolo sanguigno del paese e questo è il circolo vizioso fondamentale quando ho detto a mio figlio che allora era adolescente che avevo accettato di fare l'assessore per nomina del sindaco Cacciari non come eletto per l'amore di Dio il suo commento è stato in diretto veneziano anche al pari in torta mi tocca avere anche al pari? il pari in torta tradotto vuol dire devo anche sopportare il fatto di avere un genitore colluso con giri poco gradevole questa è l'opinione consolidata e costante di tutte le mie classi di studenti e non è infondata perché la politica stretta dai mercati ha sbordato liberandosi della burocrazia deve conquistarsi le risorse per inseguire il consenso deve pagarlo deve farsi vedere deve strellare parlando a parti del cervello più antiche e meno ragionevoli e tutto questo purtroppo è un circolo da svegliere a questo punto però visto che abbiamo già utilizzato molto del nostro tempo che è il nostro tempo è un po' di nessuno che è un po' di nessuno che è un po' di nessuno e poi insomma che è un po' di nessuno che si fa è un po' di nessuno si fa